Ho voluto raccontare la mia esperienza di studente della cattolica soffermandomi sul momento della scelta dell'università e su quella che poi è stata la mia scelta una volta laureato. Sono state delle scelte di vita e di vocazione. Ho raccontato il mio percorso di avvicinamento alla cattolica grazie al mio parroco e grazie all'importanza che il mio parroco donava alla celebrazione delle giornate per l'università cattolica. E poi ho ricordato gli anni di studio, i chiostri del Bramante, le difficoltà di un fuorisede e ho ringraziato il Signore e lo ringrazio tuttora oggi per le persone preziose che ho incontrato in quegli anni e che ancora oggi sono sul mio cammino. Infine ho raccontato la mia scelta di ritornare nella mia terra di origine per un senso di responsabilità e di amore verso il mio territorio e verso quel patto educativo che Monsignor Delpini ci ha ricordato, promosso da Papa Francesco e che io da giovane avevo stretto senza saperlo con i miei professori di scuola media, del liceo e con il mio parroco. Grazie. Grazie.